Ehi, I got you, baby. I got you, baby. Dov'è andiamo? Eh? Dov'è che andiamo? A casa dei Piacentini. Ah, è vero. Dobbiamo vedere la carretta. Eh, sì, sì, sì. Speriamo che è una bella carretta. Però che palle fare l'autostop. Eh, che rottura di coglioni. Guarda, Pa. Non ci credo. E da quando i poliziotti prendono su gli autostoppisti? Vieni. E dai, vieni, cazzo. Voglio cagarci dentro se ci carica. Avanti, accelera. Dai, 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 accelera. Tutta birra. Anche la birra. Cazzo, questa non me la scordo. Ci vuole davvero uno stomaco di ferro a stare in un porcaio come quelli. Eh, infatti sono una bella razza di schifosi. Ehi, Raymond! Raymond! Ehi, Raymond! Raymond! Come ti gira, Raymond? Che cazzo volete? Ah, beh, siamo venuti per il saldo. No, no, scherzavo. Abbiamo fuso un po' in questi giorni, allora ci siamo detti che magari... Tu parli troppo, giovanotto. Raymond, veniamo da buoni vicini. Io non ho vicini. Ho solo clienti. Quanto rame avete? Un centinaio di chili. E basta. Oh, dico, non siamo mica le fonderie riunite. Io non ci credo al grosso. Oh, c'è bella faccia. Non sei cambiato tu? Sempre la stessa faccia di culo?